aspetta un attimo prima di parlare ci siamo sai che non vedo una banana io sono orbo ormai sai cosa sai che giorno è oggi è l'età che va su e me ne accorgo perché oggi festeggiamo un traguardo ragazzi ragazzi oggi è il 13 di settembre del 2020 e noi siamo esattamente nello stesso posto in cui due anni fa io sono diventata la signora pavan pensa a te sei tuttora signora pavan cioè dopo due anni sei ancora la signora pavan pensa non sono diventata no vabbè no sei sempre comunque stiamo festeggiando nello stesso posto siamo a santa margherita del piano piano lentamente perché sai è un video in diretta c'è addirittura al 118 che ci sta passando sopra adesso ma non è per me questa villa cecilia dove siamo venuti a cena torniamo a girarci perché se no andiamo al buio ecco ci siamo ci siamo ci siamo allora abbiamo un bicchiere in mano vogliamo fare un brindisi ai nostri primi due anni cosa io ho rimesso il vestito che avevo due anni fa quando mi sono sposata mi sta quasi largo se non avrei avuto dubbi in merito perché sono quelle piccole soddisfazioni della vita c'è ancora mangi sempre pochissimo quindi amore fai tu per me anche sì io mangio per due infatti ne ho messo sul vestito di quando mi sono sposato perché non so se ci sto dentro ma sì ci sto ci sto non sono ingressato tantissimo l'ho messo a giugno l'avevo messo anche un'altra volta comunque comunque questo è il nostro cin cin è il nostro cin 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 alla nostra salute alla vostra salute assolutamente sì noi adesso aspettiamo di mangiare vi lasciamo le vostre cene se siete alle cene una serata molto calda si sta benissimo fuori un buon collutta wines che le hanno qua che sono i titolari del locale quindi cin cin a tutti ai nostri due anni eccoci auguri ciao ragazzi buona serata buona domenica alla prossima aspetta che vediamo che tienimi il bicchiere che spengo che se no ribalto tutto attenti 3 2 1 chiudo ciao 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 ciao